In questi mesi abbiamo lavorato per dare nuova forza all'istituzione museale e non solo, abbiamo lavorato anche per rafforzare la rete dei musei della Flaminia. Ecco che con l'iniziativa FAMO, che è un'iniziativa nazionale ed è l'iniziativa di famiglie al museo, cerchiamo di fare un altro passo avanti in questo progetto più completo e più complesso di cui vi abbiamo parlato tante volte. Quindi domenica 8 ottobre sarà l'occasione per andare con tutta la famiglia al museo, al museo del Palazzo Malatestiano ma anche ad altri musei che afferiscono la rete della Flaminia. Se venite al museo civico del Palazzo Malatestiano avrete due bellissimi laboratori, domenica 8 alle ore 16.30 letture a cura di Nati per Leggere in collaborazione con il nostro sistema bibliotecario che diciamo che è un sistema che a livello nazionale si difende molto bene. E alle 17.30 apriti il museo a cercare fortuna, una piccola caccia al tesoro per scoprire qual è la fortuna che si nasconde dentro il nostro museo. Però ci sono come dicevo altre iniziative lungo tutta la Flaminia. Abbiamo il museo archeologico della via Flaminia di Cagli che farà una bellissima caccia al tesoro alle ore 16. Alle ore 17 noi siamo creativi al MOS, sala dei mosaici di Saltara, un laboratorio in cui potrete esprimere assieme a tutta la famiglia la vostra creatività. Poi alla riserva naturale statale della Gola del Furlo alle ore 9 di mattina, una giornata da ricercatore. E infine l'antiquario Impitium Mergens di Acqualagna alle ore 16.30, laboratorio Il Piccolo Archeologo. Questo è molto importante perché valorizza tutto un sistema museale e tutta una rete. Quindi avete l'imbarazzo della scelta e ci vediamo domenica al museo. Scegliete voi quale.